Ormai Hollywood ha trovato la chiave giusta per trasporre i videogame sul grande schermo ed è questo l'esempio di Gran Turismo. Ma andiamo con ordine perché ho visto in anteprima il film diretto da Neil Blomkamp grazie agli amici di Nerpool che ringrazio moltissimo e grazie a questa anteprima ho anche ricevuto un bel gaggettino, questo berrettino con il marchio di Gran Turismo. Tornando al film bisogna capire come gestire un live action dedicato a un videogame. Questa volta ci sono riusciti affiancando la storia del videogame a una storia vera. Partiamo! Infatti il film dedicato a Gran Turismo racconta la storia vera di Ian Mordemoro, un giovane ragazzo che grazie a un contest dedicato a videogiocatori che con il simulatore del gioco di Gran Turismo hanno potuto partecipare a un contest che permetteva loro di poter entrare nel team Nissan e così correre in gara. Tutto questo per dimostrare la validità del simulatore dedicato a Gran Turismo proprio per affiancare e far vedere la grande importanza che ha avuto lo sviluppo di questo simulatore che si può applicare anche nella vita reale, come ha dimostrato la vera storia di questo giovane ragazzo che andremo a parlare oggi grazie al film diretto da Neil Blomkamp che ha dimostrato ancora una volta che si possono adattare videogame al cinema soltanto affiancando storie vere e interessanti che parlano degli stessi appunto come abbiamo visto anche in Tetris. Un film dalle forti emozioni che consiglio a tutti di guardare perché oltre a parlare di Gran Turismo parla di inseguire i propri sogni fino a che non si sono raggiunti. Appunto Gran Turismo racconta la storia di Ian, questo giovane che ha il sogno di scendere in pista con una vera macchina per diventare un pilota professionista di Formula 1. Nota interessante, proprio il vero Ian Mordembro ha partecipato al film nelle vesti di stuntman, nelle scene in cui si vede la macchina che corre è lo stesso Ian a guidarla ed è la prima volta che accade nel cinema in cui il protagonista del biopic in questione è lo stesso stuntman che partecipa al film. Il giovane protagonista è interpretato da Archie Madeque. Al suo fianco abbiamo due colossi del cinema, un David Harbour che è incredibile in questo film e che dimostra tutta la sua bravura soprattutto nelle scene in cui deve trasmettere la foga agonistica e l'adrenalina necessaria al ragazzo per superare gli ostacoli. Insieme a David Harbour troviamo un ritrovato Orlando Bloom che oltre a poche cose e soprattutto una delle serie Amazon non ha fatto moltissimo nell'ultimo periodo ma in questo film è veramente bravo, insomma. Ha fatto la sua parte con sufficienza, più di non sufficienza direi. David Harbour interpreta Jack Salter, un ex pilota che ha smesso di correre dopo un grave incidente che l'ha visto protagonista. Qui vediamo come deve dare la carica e la forza agonistica al giovane per superare gli ostacoli e convincerlo di credere in se stesso, di inseguire questo sogno che tanto ha cercato. Un grande David Harbour accompagnato appunto, come abbiamo detto, da Orlando Bloom. Orlando Bloom interpreta Danny Moore, il capo del marketing della Nissan che ha deciso insieme appunto ai creatori del videogame e ai capi presidenti della Nissan di avviare questo progetto dedicato ai giovani videogiocatori per dimostrare che il simulatore funziona e può essere applicato anche in pista. Come detto appunto, la chiave giusta di lettura sembra essere trovata per applicare i videogame al grande schermo e raccontando delle storie che vanno proprio a brancetto con i videogame sembra la giusta chiave per ampliare questa strada. Quindi magari potremmo vedere altri videogame, altri live action dedicati ai giochi per PlayStation e altre console a arrivare sul grande schermo con storie alternative magari che raccontano di persone reali che hanno avuto un grande impatto sul videogame. Inoltre c'è da sottolineare la mano di Neil Blomkamp in questo film perché la regia è ben chiara, i sorpassi e tutte le scene in pista sono perfette. Si legge in ogni scena la mano di Blomkamp che comunque ci regala adrenalina ed emozioni nonostante la regia di una gara automobilistica non è sempre facile da girare. In questo caso Blomkamp ha superato a pieni voti la sfida. Bellissimi riferimenti al videogame in quanto durante le scene di guida, durante le corse appare la grafica che vediamo mentre si gioca con la macchinina col cursore sopra di indicare la posizione di Ian quinto posto, quarto posto e le varie traiettorie che deve seguire la macchina e che invece Ian non segue spesso proprio perché il suo estro e la sua voglia di mettersi in mostra lo differiscono dagli altri piloti per questo molto spesso finiscono alle spalle del giovane pilota. Il successo di Gran Turismo è stato inaspettato infatti in poco meno di una settimana ha superato già gli incassi di Rush con protagonista Chris Hemsworth. Ragazzi se non l'avete visto il film andate a recuperarlo perché ne vale assolutamente la pena io ve lo consiglio e gli do un bel otto quindi per oggi è tutto ho cercato di essere il più breve possibile ma vi ricordate che comunque Gran Turismo è preso dal videogioco e messo in scena su grande schermo è uno dei pochi film riusciti dedicati a una sacca videoludica per oggi è tutto ragazzi vi ringrazio, vi rimando al prossimo video ciao a tutti da Valerio Perroni e da Ciaccazioni